In Formula 1 devi saper interpretare la gara. Sapendo quando è il momento di spingere. E quando è il momento di dosare. Gara stravitosa! Una volta a bordo, lotto fino alla fine. Max Verstappen, come ti senti su quella sedia? Eh, molto comoda. È una nuova era. Salve, salve. Daniel, facci un sorriso. I sorrisi si pagano. Cavolo, ci siamo. Questa stagione di Formula 1 è diversa sotto ogni punto di vista. Quest'anno si azzera tutto. Deve essere l'anno della rimonta. Possiamo competere. È una sensazione nuova. Sono fiducioso. So quanto lavoro abbiamo fatto. Questo non andrà su Drive to Survive. Più è successo e più ti devi guardare le spalle. Niente stimola più antipatia dei successi. Ve la vedrete con me. Si cominciano a intravedere le prime crepe. Bandiera rossa, bandiera rossa. Oh mio Dio. Ci mancava solo questo inferno. In Formula 1 ci devono essere sempre eroi. Antieroi. Dovremmo iniziare a pensare a un cambiamento. I patti sono chiari. Se non si rende, si è fuori. Vogliono farvi male. Sono tutti d'accordo. Errori che si susseguono. Resta fuori. C***o! Tutti avvertiamo la pressione. Max doppia Lewis Hamilton. Faccio molta fatica in pista. Incredibile! Che si f***a? T5 crop cá Ins liquide... C***o! Grazie a tutti